Buonasera a tutti, in salute torna per questa nuova edizione che ci accompagnerà per molte settimane alla scoperta di tutti quelli che sono i servizi e le novità che ci mette a disposizione la nostra ASL Toscana Sud-Est. Saluto l'assessore alla sanità della regione toscana Simone Bezzini, buonasera, bentornato. Buonasera, grazie per l'invito. Il direttore generale dell'ASL Toscana Sud-Est, il dottor Durzo, buonasera e bentornato. Allora, la prima domanda riguarda in generale la questione sicurezza perché non si parla d'altro in questi giorni, in tutti i programmi televisivi, sui giornali e anche al bar si parla della violenza che subiscono medici, infermieri, os, tutto il personale che lavora soprattutto nel pronto soccorso che è la vera trincea tra il cittadino e la sanità pubblica è proprio il punto di incontro principale. Si verificano situazioni soprattutto al sud molto difficili, la Toscana Sud-Est però sembra esente da tutto questo oppure ci sono delle percentuali, delle nicche in cui si verificano anche da noi assessore delle frizioni, dei momenti di tensione. Allora, anche in Toscana abbiamo un problema aggressioni, su questo non c'è ombra di dubbio, è un fenomeno che riguarda il Paese, probabilmente con qualche dato che può essere inferiore rispetto o comunque meno rilevante rispetto ad altri contesti territoriali, però anche noi abbiamo questo fenomeno e anche noi siamo molto preoccupati. Io direi che le motivazioni sono molteplici, parto da quella più di ordine generale ma che secondo me è importantissima e credo che questo sia un tema condiviso anche dalle rappresentanze dei professionisti sanitari. C'è un tema di principi e il primo principio che bisogna affermare è che bisogna avere tanto rispetto di chi si occupa della nostra salute. Sapere che è un lavoro complesso, soprattutto in questo momento, sapere che si ha diritto alla cura ma non è assicurata la certezza della guarigione per ragioni facilmente comprensibili, che purtroppo a volte le cose possono andare come si vorrebbe che non andassero, però bisogna mantenere un atteggiamento di grande rispetto dei professionisti sanitari e anche della corretta relazione tra il professionista e il paziente. Questo è un punto a mio avviso imprescindibile riguardo alla sanità ma riguardo anche altri settori. Poi c'è un tema nostro, cioè dell'organizzazione sanitaria che certo si deve impegnare per mettere in campo tutte le azioni che possono contenere questo fenomeno, in termini di prevenzione, in termini di controlli, formazione, informazione, vigilanza e alcune cose le stiamo facendo. La Toscana è stata all'avanguardia, è stata la prima regione in Italia ad avere un osservatorio e quindi ad occuparsi del fenomeno delle aggressioni, l'osservatorio che poi è stato traslato sul livello nazionale. Recentemente abbiamo fatto una delibera in cui assegniamo un po' di risorse alle aziende anche per nuovi investimenti, per implementare il livello di vigilanza, il livello di sicurezza degli operatori e proprio domani faremo un punto della situazione con tutte le aziende sanitarie, sindacati di ordini professionali per capire come vanno le cose, cosa possiamo fare meglio. Ultima considerazione, ecco, dobbiamo fare sicuramente uno sforzo noi, la regione, le aziende sanitarie, ma c'è un bisogno anche di un impegno più generale, anche di un impegno più forte del governo e di tutte le altre istituzioni che si occupano di sicurezza delle persone, compreso gli operatori sanitari. Il governo deve dare più risorse diciamo alla sanità pubblica, lo diciamo per tutte le cose a partire dall'abbattimento delle liste di attesa, ma se noi vogliamo aumentare anche i livelli di sorveglianza o vigilanza dentro le strutture sanitarie, quindi a spendere, e per spendere servono i finanziamenti, perché io non è che posso chiedere al dottor Durzo di assumere, ora dico così, vigilantes e poi mi mancano i medici per abbattere le liste di attesa, ho bisogno di risorse che in primo luogo mi consentono di contenere le liste di attesa e magari anche di risorse che consentono di avere anche politiche per la garanzia della sicurezza. Poi ci sono le altre istituzioni con le quali noi siamo assolutamente disponibili a collaborare per diciamo assicurare quella vigilanza e quei controlli soprattutto nei punti più critici, perché i nostri dati ci dicono che ci sono dei punti più critici e rispetto alle quali diciamo ecco noi bisogna lavorare assieme con le altre istituzioni per tutelare quanto più possibile la sicurezza degli operatori. Però non si può neanche pensare di vivere sotto assedio e sotto protezione come non lo so in Colombia dove c'è tutta questa guardia armata privata che protegge addirittura i condomini. Spesso c'è sicuramente molto nervosismo da parte degli utenti degli ospedali del pronto soccorso ma forse è importante anche che ci sia una formazione di tutti coloro che sono al di là del desk e che quindi spesso la gentilezza smussa molti toni. Sia in Arezzo Grosseto mi sembra che abbiano adottato questo tipo di tattica per gestire anche situazioni un po' difficili. Questo è uno strumento che abbiamo a disposizione e che stiamo utilizzando accanto agli altri perché qui non esiste uno strumento, esistono più strumenti. Esiste lo strumento dell'aumento della sicurezza passiva di cui parlava l'assessore, quindi sistemi di videosorveglianza, bottone, antintrusione in zone sensibili. Esistono attività di formazione e di informazione nei confronti degli operatori per detendere situazioni di conflitto. Esistono strumenti che facilitano la segnalazione dei fatti all'autorità giudiziaria perché poi c'è anche un tema perché noi diciamo mai sentirsi soli, i professionisti non si devono mai sentire soli. Operiamo affinché ciò avvenga costantemente. È evidente che poi a un'aggressione conseguono delle ricadute, degli effetti sia di natura psicologica sia di natura fisica nei confronti delle persone aggredite ma avere la certezza dei tempi dell'esecuzione dell'individuazione del responsabile della pena è anche fondamentale. Ecco perché molti di noi direttori generali d'Italia abbiamo chiesto l'arresto in propaganza di ferita che è la misura che si utilizza per gli stadi, quindi nulla di diverso. Aggiungo che gli ospedali poi non sono fatti per essere caserme, non sono fatti per essere luoghi blindati, oltre le considerazioni che diceva l'assessore. La stessa definizione di ospedale significa accoglienza, disponibilità. Gli ospedali non sono stati pensati per essere dei carceri con luoghi di accesso limitati. Gli ospedali sono dei colabrodi e noi non abbiamo... Bisogna costruire dei fossati con i cucodrilli. Ma è proprio contrario alla logica d'ospedale. Bisogna lavorare sulla sicurezza passiva, bisogna lavorare anche un po' sulla sicurezza attiva, sull'educazione dei nostri professionisti. Una cosa interessante che abbiamo fatto in una sede, un corso a cui ho partecipato anch'io con un maestro di arti marziali, ma non per insegnare tecniche di arti marziali, perché la nostra proposta non è la risposta alla violenza con la violenza, ma alcuni accorgimenti. Per esempio una cosa su cui stiamo ragionando è la modifica delle tute di esercizio, delle tute di lavoro. Le tute di lavoro con tasche rappresentano un fattore di rischio, perché le tasche sono dei luoghi attraverso cui una persona che ha voglia di far male può attaccarsi e spingere l'operatore verso se stesso. Quindi si suggeriscono tasche munite da zip, in maniera tale da chiudere la tasca e rendere liscia la superficie dell'indumento da lavoro. Un'altra precauzione, non indossare il fonendo attaccato al collo. Avere le donne avere la capigliatura legata e impedire che i capelli rappresentano un luogo di aggressione e di attacco. Credo che anche su questo vada fatto il personale sanitario. Noi non siamo abituati, perché non ci aspettiamo la violenza da parte di chi viene curato. Per noi è inconcepibile. Noi abbiamo avuto un caso di un'equipe del 118 che è stata aggredita dalla persona soccorsa. Anche in quel caso, con l'intervento delle forze di polizia, è stato utile. 116-117 è un numero gratuito, nuovo e questo numero potrebbe servire sicuramente per la decompressione di quello che è la fruizione del pronto soccorso dei vari ospedali, perché è un numero che funziona nei momenti in cui non c'è la reperibilità del proprio medico di famiglia ed è un numero che sostituisce, se non ho capito male, in qualche modo la guardia medica ed è un numero di emergenza che potrebbe, quando entrerà in funzione, subito dopo la metà di ottobre nel nostro territorio, avere questa funzionalità proprio di decomprimere gli accessi che arrivano soprattutto da una certa ora in poi al pronto soccorso oppure no, Assessore? Come è stato pensato? Perché è un numero internazionale, no europeo? La ringrazio la domanda perché almeno ci consente un po' di spiegare, anche dando alcune informazioni, non è un numero di emergenza, perché per l'emergenza si chiama il 112, è un numero per l'appunto per i bisogni di natura sanità, non urgenti, ecco questo è un punto importante anche per non generare una confusione, quindi 1-1-2 per le emergenze, per le situazioni non emergenziali 1-1-6, 1-1-7, questo servizio è entrato in funzione ieri nell'area vasta Toscana Centro, Firenze, Prato, Pistoia e se non va derrato il 18 ottobre entrerà in funzione 21 ottobre Nel 21 ottobre nell'area vasta sud-est, quindi Siena, Arezzo, Grosseto Allora, prima precisazione, seconda precisazione, non sostituisce la guardia medica, nel senso è un nuovo accesso a diversi servizi non emergenziali a partire dalla guardia medica, cioè che cosa significa? Nella fase iniziale la funzione che svolgerà sarà quella di traslare tutte le porte di accesso telefoniche che erano differenti in regione toscana, a Firenze c'era una modalità, a Siena un'altra, a Grosseto un'altra, a Lucca un'altra, avremo un accesso armonizzato, omogeneo, uguale, quindi senza differenze in tutta la Toscana, questo è il primo valore, diciamo, che ha questo 116, 117. Avremo un servizio tecnologicamente più avanzato, ad esempio consente la geolocalizzazione, ad esempio sarà multilingue, siamo una regione che ha tanto turismo, tanti lavoratori che vengono da altri paesi, tanti studenti che vengono a studiare dall'estero, quindi anche questo è un servizio in più, ma solo per fare un esempio, quindi nella fase iniziale sarà un modo migliore di sviluppare il servizio di guardia medica, quindi uguale per tutta la Toscana, con nuove tecnologie e più qualificato. In futuro, cioè quando sarà andato a regime in tutte le tre aree vaste, quindi a partire diciamo dai prossimi mesi, sarà implementato di ulteriori servizi e diventerà uno dei pilastri, uno degli elementi del nuovo modello di assistenza territoriale, tanto per capirsi dall'116 e 117 potranno essere, come dire, su questo numero anche montati altri servizi che andranno a connettersi con l'organizzazione sanitaria, penso alla funzione delle centrali operative territoriali, ne abbiamo parlato diverse volte nelle settimane scorse e quindi partiremo con la guardia medica, ma sarà implementato il numero dei servizi nei prossimi anni e quindi diventerà una porta di accesso che consentirà di facilitare il rapporto tra cittadini e sistema sanitario, evitando anche gli accessi impropri ad esempio al pronto soccorso, perché se funzionano bene questi servizi per situazioni non emergenziali si evita che per l'appunto, per una piccola questione si vada a rifinire in pronto soccorso, quindi c'è anche la funzione che giustamente ci sottolineava lei. Quindi tutto questo sarà molto importante ma ci saranno anche tutta una serie di figure professionali che troveremo perché gli orari sono giorni feriali, quindi lunedì e venerdì dalle 20 alle 8 della mattina successiva, nel fine settimana dalle 8 del sabato fino alle 8 del lunedì mattina e quando ci sono festività che vengono a metà della settimana dalle 10 del giorno prefestivo fino alle 8 del primo giorno feriale, quindi copre tutti quei momenti in cui non troviamo magari il medico di famiglia. Sì, questo è vero, però l'obiettivo è quello di far diventare questo numero centrale nelle cure non urgenti, quindi essere attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Soltanto in questo modo rappresenta un punto di riferimento, quindi non è solo la sostituzione del numero di guardia medica diverso da territorio a territorio, quello pure è la premessa, Firenze ha cominciato con sostituire il numero telefonico della guardia medica. Per la continuità assistenziale. Per la continuità assistenziale, servizio delle ore notturne e dei festivi. Noi nel territorio della sud-est abbiamo l'aggravante che di numeri telefonici ce ne sono tanti quante sono le province, quindi per noi è un'armonizzazione già del numero che è 116-117. Il secondo aspetto è che non è solo continuità assistenziale, l'assessore parlava di una connessione tra il 116-117 e le centrali operative territoriali, ma è un numero a cui nell'evoluzione naturale è un numero a cui tutti i cittadini dovranno rivolgersi se hanno bisogno di informazioni per cure. Io non so, ho una persona a casa che ha un problema, per esempio un'incapacità ad andare in bagno, non so come fare a contattare l'assistenza domiciliare e gli infermieri, come posso fare a contattare l'infermiere di famiglia e comunità, ma il mio medico di medicina generale va in pensione. Cosa mi succede? Sono tutte domande che attengono non al sistema della rete dell'emergenza urgenza, ma che attengono a bisogni di salute che numericamente sono di più, devo dire anche importanti, perché non è il fatto che non sia urgente non significa che non sia importante. Sapere come fare a risolvere un problema di salute con un familiare allettato a casa è tanto importante quanto la diagnosi precoce di un infarto miocardico acuto che va al pronto soccorso. Noi siamo più allenati a fare attenzione all'emergenza e all'emergenza territoriale, ma non è che i problemi... Allora non si può dire investiamo sulla sanità territoriale e continuiamo a parlare sempre del 112. Il 116-117 rappresenta l'avvio di questo sistema, che è un sistema modulare, come diceva l'assessore, ma anche progressivo. È partita prima la Toscana centro, poi partirà la sud-est dal 21 ottobre e poi a seguire la nord-ovest. Perché questo? Perché anche solo la modifica del numero porta dietro una serie di problemi, di abitudini, di tradizioni. Perché poi, voglio dire, il numero di guardia medica nei nostri territori è molto consolidato. Ci sono persone che lo ricordano bene a memoria. Io ho degli amici con persone anziane in casa, ce l'hanno proprio scritto col computer vicino al numero di telefono. Allora è già solo l'idea di cambiare il numero di telefono. Pensiamo alla fatica che abbiamo fatto per passare al 112 o tutte le volte in cui si tratta di cambiare una... E stiamo parlando di una premessa, non stiamo parlando della sostanza. Quindi è un grande lavoro che la Toscana si appresta a fare, peraltro obbligatorio. Quindi non è che la Toscana l'ha voluto fare. La Toscana l'ha voluto fare e l'ha dovuto fare. Ci fermiamo perché poi questo numero avrà un suo perché anche accanto allo sviluppo delle case di comunità, oppure no. Ne parliamo tra poco. Abbiamo parlato di questo nuovo numero della continuità assistenziale e un numero che piano piano nel tempo, l'116117, dovrà rispondere a tantissimi quesiti e essere di sostegno ed aiuto per tutti i cittadini. Ma accanto a questo numero ci saranno anche le case di comunità che già esistono in molte realtà anche della Toscana sud-est. Manca in realtà una vera e propria casa di comunità a Siena, ma che ben presto dovrà aprire i battenti, come più volte ci avete detto, in Viale Sardegna dove c'era, sorgeva il palazzo che doveva essere della provincia. Assessore, i lavori sono cominciati? Quando pensiamo di aprire? Quando partirà questo nuovo servizio? Allora, poi qualche informazione di dettaglio la può dare il direttore, ma insomma se non vado errato siamo nella fase della progettazione. Allora proviamo però a ricostruire il quadro generale. Noi abbiamo i finanziamenti per realizzare un primo, per acquistare l'immobile dall'amministrazione provinciale, la quale vorrei ricordarlo con i proventi investirà nelle scuole pubbliche di Siena e noi, sistema sanitario, acquistando quell'immobile potremo realizzare a Siena uno dei più grandi poli dell'assistenza territoriale della Toscana. Quindi abbiamo i soldi per acquistarlo, per realizzare un primo lotto. Poi abbiamo chiesto al Ministero il finanziamento per realizzare il lotto conclusivo e quindi su soldi delle regioni e qui il problema è che c'è una procedura burocratica che il governo non vuol semplificare e che invece andrebbe, la dico così, sbaraccata perché si perde più tempo nei carteggi che nella realizzazione dei cantieri, perché sono risorse delle regioni che però sono allocate al Ministero, che le regioni devono chiedere di volta a volta ai Ministeri con una trafida lunghissima e rischiamo di perdere tempo. Dopodiché per ora queste sono le norme e le dobbiamo rispettare. Quindi sul primo fronte diciamo che la ASL ha ora le risorse finanziarie, deve fare la progettazione, poi fare la compravendita con la provincia e poi andare in gara d'appalto per il primo lotto di lavori. Noi come regione dobbiamo completare il finanziamento del secondo lotto chiudendo le procedure, le pratiche burocratiche nel Ministero e poi trasferire anche queste risorse alla ASL. A quel punto ci sarà la copertura. Ma quanto prevediamo? Quanti anni? Non so tempi brevi, ecco io lo dico con grande trasparenza, questo sarà un percorso di medio periodo, 5 o 6 anni ci vorranno, su questo dobbiamo essere trasparenti e non fare promesse diciamo perché ci vogliono tempi lunghi di burocrazia preventiva, quindi non mi preoccupa tanto la realizzazione dell'intervento, però c'è questa diavoleria burocratica dell'articolo 20 che è stato pensato 30 anni fa come modello di finanziamento da tenere sotto controllo sulle grandi infrastrutture sanitarie, ma oggi il sistema sanitario ha qualche volta bisogno di grandi investimenti, ma più spesso bisogno di piccoli investimenti di riqualificazioni, di realizzazione di strutture territoriali, quindi quella impalcatura di controlli che serviva a capire cosa facevano le regioni rispetto alla realizzazione degli ospedali, se c'era una programmazione adeguata, non ha più senso quando io devo fare interventi di taglia bassa. Che comunque poi in tante regioni non ha funzionato lo stesso, perché in Toscana potrei dire che ha funzionato abbastanza bene, anche noi qualche difettuccio ce l'abbiamo, ma ha funzionato abbastanza bene, ma ce la siamo controllata da noi, ecco da questo punto di vista c'è una storia di programmazione della rete ospedaliera toscana che riguarda anche la provincia di Siena, anche di esempi virtuosi di razionalizzazione della rete, diciamo, penso alla realizzazione dei monoblocchi a Campostaggi a Notola, che sono state scelte importanti e per le quali va dato merito agli amministratori di quel tempo, perché ebbero il coraggio di fare scelte anche in popolari, ma oggi ci consegnano ospedali a cui nessuno rinuncerebbe, abbiamo avuto un momento di confronto anche con Duzzo qualche settimana fa con centinaia di persone in Val d'Elsa e nessuno tornerebbe indietro, però a quel tempo ci volle il coraggio del cambiamento, coraggio del cambiamento che servirebbe molto anche in questa fase storica, perché molto spesso nel rapporto col sistema sanitario, anche da parte dei cosiddetti stakeholder, c'è un approccio conservativo, spesso con la testa rivolta al passato, invece dovremmo avere la testa rivolta al futuro con una forte propensione all'innovazione e al cambiamento. Sì, perché quando ci fu gli ospedali riuniti della Val di Chiana, ogni piccolo comune aveva il suo ospedale e quindi il nome ha detto, vabbè, manteniamo questa sorta di campanilismo tipico toscano, però l'ospedale sarà nottola e ovviamente ha un altro livello rispetto a tutti i piccoli ospedali. La salute dei cittadini è una cosa un po' diversa dalla salute dei campanili, non corrisponde sempre e a volte dal territorio emergano istanze che magari rappresentano la salute del campanile ma non la salute dei cittadini, per la salute dei cittadini bisogna avere più coraggio e anche andare verso modelli organizzativi nuovi, abbandonando anche modelli che non funzionano 5-6 anni quindi per questa nuova casa di comunità, ci vogliono tanti soldi per farla e ci vogliono 5-6 anni per… quindi dobbiamo aspettare ancora. L'idea di fare un grande polo di sanità territoriale a Siena è una certezza, il fatto che Siena ne avesse bisogno lo è altrettanto, il fatto che Piandovile abbia una sede in termini di topografia e in termini di condizione della struttura inadeguate per Siena è altrettanto evidente. Per fare un investimento economico di questo valore ci vogliono circa 8 milioni di euro per l'acquisto, 5 milioni di euro il primo lotto aggiuntivi e 6 milioni, 7 milioni il secondo lotto, più gli arredi. Quindi voglio dire che stiamo parlando di cifre economiche che non sono cifre, quindi c'è un grande investimento sulla città di Siena e sulla sanità territoriale a Siena che ci auguriamo possa contribuire in maniera positiva allo sviluppo di questa sanità. Come diceva lei nel suo intervento, Siena soffre dal punto di vista della sanità territoriale, la sanità ospedaliera di Siena sono le scotte e tutte le risorse economiche finora sono state investite sulle scotte. Quella territoriale è importante anche perché il livello di anziani cresce. Aggiungere a quello che correttamente diceva il direttore che c'è anche un grande investimento al San Nicolò per 30 posti di cure intermedie di ospedale di comunità e per 10 posti di hospice. Quello è un investimento in corso e che invece si chiuderà un po' prima rispetto a quello di Viale Sardegna. A San Nicolò, quindi all'ex ospedale psichiatrico, abbiamo inaugurato la centrale operativa territoriale, stiamo realizzando i 30 posti letto di cui parlava l'assessore e 10 posti letto di hospice in un finanziamento, un po' articolo 20 e stiamo realizzando i nuovi locali della salute mentale a San Nicolò, che è un altro tema delicatissimo e di cui abbiamo bisogno. E poi c'è l'investimento sul Viale Sardegna. La città di Siena si porta a casa 60-70 milioni di finanziamento, che non è poco in un momento in cui la sanità invoca l'esigenza di risorse. Quindi, insomma, l'investimento c'è, bisogna metterlo a valore e rispettare i tempi. La cosa di San Nicolò sicuramente va a colmare un vuoto importante che era l'ospice, quindi la parte del fine vita e l'ospedale di continuità, quindi quei posti dove puoi andare dopo un ricovero ospedaliero, non sei ancora in grado di tornare a casa e lì c'hai la possibilità di recuperare dove puoi andare senza andare alle scotte, perché il percorso è non solo in uscita dalle scotte ma anche per evitare l'entrata e questo aiuterà il policlinico alle scotte ad aumentare la sua efficienza, la sua qualità e l'attività propria di un DEA di secondo livello. Certo, era la parte che ci mancava, no? Proprio qui sulla città di Siena. Allora, il policlinico alle scotte ha 850 posti letto, Arezzo scena alla metà, Icosseto scena alla metà, quindi è chiaro che debba fare alta specialità. Allora, arriva l'inverno, arriva la tosse, raffreddore, polmoniti, bronchiti, c'è un virus bello, cattivello e che colpisce sia i piccolissimi che gli adulti e gli anziani e ci sarà una campagna di immunizzazione contro questo virus che ha un nome che io pronuncio sempre in modo sbagliato. Sienciziale. Sienciziale. Virus respiratore. Allora, passo indietro, però parto dalla prima parte della sua domanda, arriva l'autunno, arriverà l'inverno, è bene fare la vaccinazione anti-influenzale e quella per il Covid. Presso i propri medici di famiglia che questa attività la fanno bene, tant'è che la Toscana è la seconda regione per somministrazione di vaccini anti-influenzali, la prima regione per somministrazione di vaccini Covid, ma il tema non è tanto il numero, la corsa a arrivare i primi o secondi, il tema è che la vaccinazione è uno degli strumenti più importanti di prevenzione, soprattutto per le persone anziane e fragili. Si evita un'influenza per una persona fragile può significare evitare conseguenze gravi, quindi prima di tutto si tutela la salute della persona, poi si protegge anche il sistema sanitario perché quando arriviamo ai picchi, quelli spesso si verifiano tra dicembre e gennaio di influenza, le persone fragili che non hanno fatto il vaccino spesso finiscono in pronto soccorso e creano delle giornate complicatissime ai nostri pronti soccorso, creando ingolfamento, creando poi qualche ricovero nei reparti di medicina e quindi questo appesantisce l'attività. Quindi prima di tutto fare le vaccinazioni autunnali, ecco soprattutto gli anziani e i fragili che devono cercare di tutelare la propria salute anche puntando sulla prevenzione. Secondo, virus respiratorio sinciziale, il direttore potrà raccontarla meglio di me sul piano clinico scientifico, è un virus che prende i neonati, che l'anno scorso ha portato a 800, se non vado errato, ricoveri di neonati con questo virus, oltre 100 mi pare sono finiti addirittura in terapia intensiva per qualche giorno. Ci sono delle esperienze internazionali che attraverso la somministrazione di un monoclonale hanno portato all'immunizzazione dei bimbi e quindi hanno ridotto radicalmente questo virus evitando ricoveri a bimbi piccolissimi e anche lì evitando poi una pressione sui reparti di pediatria che a volte ha costretto a sospendere le attività ordinarie perché anche qui ci sono i picchi come per l'influenza, ci sono alcune settimane in cui c'è un iper al flusso, questo è successo al meglio a Firenze, l'anno scorso in cui per qualche giorno una serie di attività sono state sospese. C'è un punto, dovevamo partire a ottobre con questa campagna di immunizzazione, avevamo formato gli operatori che sono ovviamente prevalentemente i nostri punti nascita diciamo, e per la parte diciamo tra virgolette retrattiva dei bimbi che non l'hanno fatto i pediatri di libera scelta, c'è stato un problema con l'azienda che non ha ancora attivato la commercializzazione, è in ritardo, dovevamo partire a ottobre, se questi prodotti che servono per l'immunizzazione arriveranno diciamo a novembre, noi contiamo ecco di partire, vedo anche altre regioni che stanno annunciando che a novembre partiranno, noi abbiamo fatto un paio di giorni fa una richiesta ufficiale all'azienda diteci quando ci consegnate il monolonale e appena arriverà anche la Toscana diciamo potrà partire insieme ad altre regioni del centro nord in questa nuova iniziativa che servirà a tutelare la salute dei più piccoli. Quindi verranno questi monofronali somministrati ai bambini appena nati e non nati? Lo faranno i pediatri di libera scelta, lo faranno i nostri centri nascita all'atto della dimissione di questi, le nostre pediatrie all'atto della dimissione. L'idea è di una partecipazione diffusa perché in Toscana il modello che si segue è quello diffuso, tutti contribuiamo, pediatri di libera scelta e in questo caso divisioni di pediatria all'effettuazione della vaccinazione. Tenga conto che l'ospedalizzazione riguarda un bambino ogni 50 bambini, quindi non sono numeri così e il 20% degli ospedalizzati va in terapia intensiva e i pazienti e i piccoli bambini che hanno questa patologia hanno un'alta percentuale di fare asma e broncospasmo e la malattia asmatica è una malattia che accompagna queste persone per gran parte per tutta la loro vita. Quindi la scelta di fare prevenzione su questa patologia è assolutamente importante in concorso con la pediatria di libera scelta che evidentemente ha mostrato sensibilità sul tema. Un'ultima notizia però, una buona notizia, dobbiamo dare, almeno spero che lo sia, parliamo di Nottola, l'ospedale eduniti della Valdichiana, l'ospedale di Nottola che soffre sempre di mancanza di personale e di professionisti. Più di una volta ci sono stati incontri con l'assessore, il direttore generale, i rappresentanti di tutti i medici, però adesso c'è un concorso per giovani medici che riguarda proprio Nottola. Sì, il concorso Nottola è stato oggetto di due concorsi destinati ai giovani medici. Il primo riguarda la disciplina di nefrologia, i nefrologi in servizio a Nottola era uno, è uno, il nefrologo vincitore del concorso prenderà servizio a novembre e abbiamo già chiesto a Regione Toscana, che sta autorizzando, il direttore regionale sta autorizzando anche un secondo nominativo, quindi in totale da questa operazione dovrebbero arrivare tre nefrologi. La situazione dell'ortopedia è molto migliorata rispetto al passato e in più abbiamo il concorso per nefrologi della fine di luglio, del 29 luglio 2024, il concorso di ortopedia è del 29 agosto 2024, il primo prende servizio, prenderanno servizio anche qualche altro ortopedico. è una bella risposta, devo dire al di sopra, l'assessore sa che conosce il mio pensiero, anche al di sopra delle aspettative. Questo strumento ha funzionato, abbiamo giovani medici disponibili a cimentarsi in questi ospedali, che d'altra parte rappresentano delle vere e proprie palestre di vita professionale, perché un conto è fare il radiologo, l'ortopedico in un grande centro universitario, un conto è fare l'ortopedico a Nottola, perché il processo di apprendimento e di crescita, dopo aver avuto un'adeguata formazione in un centro universitario, si plasma e si foggia in un centro ospedaliero. E Nottola ha tutte le competenze, tutte le discipline, chirurgia, ortopedia, ostetricia, pediatria, diagnostica, laboratorio, sono tutti utili per fare oncologia, per fare dei professionisti della sanità 2.0. Quindi l'ospedale di Nottola ha una sua attrattiva, l'attrattiva è il valore professionale, purtroppo non è attrattivo per la distanza che ha... Dipende da che cosa la distanza, insomma, poi? La distanza dipende da dove si abita e dove gravita il proprio centro di interessi personale, però è evidente che la caratteristica di popolazione di quella fascia di territorio non è una zona altamente popolata. Anche se Nottola è un ospedale molto frequentato, perché è un ospedale di frontiera, quindi tutto un grande bacino dell'Umbria viene di qua in Toscana, si ma un conto è l'attrazione dei pazienti, che ubbidisce a logiche territoriali in senso vero, un conto è l'attrazione dei professionisti, perché poi è importante che in quel territorio vi sia un adeguato numero di medici, perché l'attrazione è funzione dei medici che in quella zona hanno stabilito il loro centro di interesse, o per residenza, o per motivazioni personali, familiari, ma dal punto di vista professionale Nottola può rappresentare una palestra di vita professionale. Che poi, Assessore, è l'ospedale che è stato costruito in uno dei posti più belli della provincia di Siena, perché è circondato da queste vigne meravigliose del nobile di Montepulciano, insomma si trova in una zona secondo me molto bella, io sono stato anche paziente ricoverato lì, ma faccio la finestra e vedevo le vigne. Diciamo che questo aiuta, perché sappiamo che sono anche degli studi, me li raccontavano ieri, diciamo, in un altro contesto, dove ci evidenziavano come il paesaggio, l'inserimento ambientale, può trasmettere un messaggio positivo che può aiutare anche i percorsi di cura. Diciamo che in questo la sud-est va forte, perché pensi all'ospedale di Orbetello, sulla laguna. Certo. No, è gradevole. Pensi all'ospedale di Campostaggia, anche all'ospedale di Campostaggia è localizzato in un luogo confortevole, quindi la sud-est i suoi 13 stabilimenti ospedalieri ce li ha in posti attrattivi, purtroppo non solo l'attrattività dei luoghi rappresenta l'unico standard di riferimento per i nostri professionisti. Comunque, allora, possiamo essere positivi, no? Per l'inizio di questa stagione scolastica, perché il calendario va con la scuola, no? Siena va col palio prima e dopo il palio, però il resto va con la scuola. Quindi inizia la scuola, iniziano i raffreddori, però ci sono i vaccini, ci sono tutte queste importanti novità di cui poi parleremo durante tutta la stagione nelle nostre puntate. Allora, io ringrazio l'assessore Bezzini, direttore generale, grazie di essere intervenuti e in salute, come sempre, torna la prossima settimana. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.